È scoppiato un dissing tra Fedez e Mirta Merlino Ciao Mirta, ti rispondo anch'io con grande rispetto Sei il cavaliere della Repubblica Italiana per il tuo grande impegno giornalistico Sono volate delle frecciatine shock Ci vediamo domani, cacca di paloma, vi porto un caffettino giù Le parole di Fedez tradiscono una certa insofferenza È stata tirata in mezzo anche Barbara D'Urso Ma Mirta Merlino, Barbara avrebbe fatto di meglio Siamo di fronte ad un vero e proprio botta in risposta È stata indagata per truffa e noi pensiamo che sia nostro dovere parlarne È le priorità dell'informazione Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome E benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video dedicato a un dissing shock È scoppiato un dissing tra Fedez e Mirta Merlino Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto Di iscrivervi al mio canale E qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti E di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto gossip drama E il meglio e anche il peggio di questi dissing shock Vi ricordo poi anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio Valerio Ed eccoci qua ragazzi, nuovo video, nuove notizie super super shock Che vi devo raccontare? Oggi entriamo nel vivo di un vero e proprio dissing Che è scoppiato negli ultimi giorni Innanzitutto torniamo a parlare del Pandoro Gate Quello di Chiara Ferragni e Balocco Una beneficenza che fa acqua da tutte le parti Con tantissime tantissime novità Già vi dico però che non parleremo delle novità del caso di Chiara Ferragni Perché ho deciso di fare un video a parte interamente dedicato solo e soltanto a lei Oggi invece ci occupiamo di quello che è stato un litigio social manca in tv Proprio tra Fedez Che si insomma in questa vicenda ha fatto largamente discutere A più riprese ha anche parlato Si è letteralmente come posso dire Confrontato con Giorgia Meloni Ed io ve ne ho parlato in un video che vi lascio qui nella I di informazioni Bene, Fedez torna a parlare E lo fa contro una giornalista molto conosciuta Stiamo parlando di Mirta Merlino Nuova conduttrice di Pomeriggio 5 dopo Barbara D'Urso Che in questi ultimi giorni Come tantissime altre televisioni italiane Ha trattato l'argomento Chiara Ferragni, Pandoro e Balocco Anche perché ci sono delle accesissime novità Ma perché parliamo di questo oggi? Beh, perché in questi ultimi giorni Fedez si è, come posso dire Dimostrato abbastanza insofferente Nei confronti dei giornalisti Che quotidianamente si ritrova sotto casa Il nostro racconto infatti Parte proprio da una storia condivisa da Fedez su Instagram Dove ci mostra una serie di giornalisti Che nel momento in cui lui esce di casa Si appostano lì proprio fuori dal suo cancello Questa cosa va avanti da giorni E secondo Fedez queste non sono le priorità del paese Cioè l'Italia non può essere solo interessata Agli affari di Chiara Ferragni Eppure non è così Guardate Secondo me fuori da casa di Matteo Messina Denaro C'era meno gente Guardali Oh mio Dio Le priorità dell'informazione italiana Ovviamente di fronte a questo genere di stories Condivise su Instagram Mirta Merlino non è rimasta in silenzio Anzi Ha deciso di rispondere Proprio perché Tra le persone che si appostano lì Sotto casa dei Ferragnez C'è un giornalista di Pomeriggio 5 La sua trasmissione televisiva Mirta infatti su Threads Ha scritto questo Voglio dire a Fedez Che se fai notizia per tutta la vita E i mass media ti servono molto Quando le cose vanno bene Devi sapere che i mass media ci sono Nella buona e nella cattiva sorte E il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata Ebbene sì È una notizia Pandoro Gate ha riportato ovviamente le immagini Proprio di Fedez Ma che cosa succede? In queste ultime ore In questi ultimi giorni Ovviamente Fedez di fronte Alle parole di Mirta Merlino Non è rimasto in silenzio E fate bene attenzione Perché ad un certo punto Pubblica anche delle stories Dove cita Barbara D'Urso Dicendo Ma Mirta Merlino Barbara avrebbe fatto Di meglio Insomma Guardiamo insieme queste stories Che hanno fatto Largamente discutere E poi le commentiamo Guardate Ormai la Paloma Mi è diventato una star Perché è pomeriggio 5 Da diversi giorni Che mette un giornalista Piantonato fuori da casa nostra Nella speranza di vedere Non so che cosa Mirta Merlino Devo dirti Che se il tuo interesse giornalistico E nei confronti Della solidità Degli escrementi di Paloma Oggi Paloma Ha fatto la cacca Semidura Però se mandi Il tuo inviato domani Ti faccio sapere Perché secondo me Domani potrebbe farla Cacca molle Quindi Si prevede uno scoop Mirta Si prevede uno scoop Ti tengo aggiornato Aggiornata Aggiornato Vabbè Grande Numeri uno eh Ciao Mirta Ti rispondo anch'io Con grande rispetto Perché Tu sei cavaliere Della Repubblica Italiana Per il tuo grande impegno giornalistico E Per me Sei liberissima Di venire sotto casa mia Per l'amor di Dio Come io sono liberissimo Di ridere Delle priorità Dell'informazione italiana In questo momento Che vertono solo In direzione di Chiara Ferragni Ma Ci tenevo a farti una domanda Visto che ti reputo Una grande giornalista Così come tu Vieni sotto casa mia E l'unica cosa Che puoi trovare Purtroppo sotto casa mia È il mio cane Che fa la cacca E anzi Io ti invito A venire anche domani Così controlliamo Come fa la cacca paloma Ma Sei stata per caso Sotto casa Dell'ex deputato Pozzolo Cacciato dal suo stesso governo Per aver sparato E aver utilizzato L'immunità parlamentare Per non fare il test Della polvere da sparo Perché lì Magari Cacche di cane Non le trovavi Ma qualche boss Lo potevi Potevi trovarlo È le priorità Dell'informazione Poi Mirta Onestamente A me questa retorica Del Siete diventati famosi Tramite i mass media È un po' Una mezza cacca In realtà Perché siamo diventati famosi Con il nostro ditino E il nostro telefonino E io credo che E io credo che Cancellate Cancellate Ma ovviamente Non sono state Cancellate subito C'è stato un po' Di tempo Insomma Per vederle Per salvarle Eccetera Eccetera Ed ovviamente Queste stesse immagini Sono finite Lì a pomeriggio 5 Dove Già In un'anticipazione Mirta Merlino Aveva detto Insomma Risponderò A Fedez Dopo le accuse Di queste Ultime ore Guardate Si ha tirati in ballo Sui suoi social Oggi vogliamo rispondere Come piace a noi Sulla base Dei fatti Così inizia La nuova puntata Di pomeriggio 5 Ci sono subito Delle notizie In esclusiva Molto importanti Che riguardano La cronaca nera Ad un certo punto Si passa poi Al Pandoro Gate Quello di Chiara Ferragni Balocco E adesso In questo momento C'è di mezzo Anche Fedez Per via Di queste frecciatine Neanche troppo velate Lanciate nei confronti Di Mirta Merlino Perché insomma Ci parla Delle notizie Dell'Italia Delle priorità Dell'informazione italiana Che dovrebbe forse Indagare Su Cose più importanti Come ad esempio Quell'esponente politico Che ha sparato a Capodanno Eccetera Eccetera Di fronte a tutto questo Mirta Merlino Con un certo aplomb Devo dire Ha deciso di rispondere In maniera molto umana A Fedez Guardate Le parole di Fedez Tradiscono una certa insofferenza E francamente Lo trovo comprensibile Dal punto di vista a mano Non è un momento facile per lui Questo ovviamente È solo un estratto Di pomeriggio 5 Di ciò che ha detto Mirta Merlino Perché purtroppo Ragazzi Se metto più di un tot Di minutaggio Il video mi viene buttato giù Da Mediaset Quindi mi dispiace Ma non posso mostrarvi Interamente Ciò che ha detto Mirta Merlino Comunque insomma Lei ha detto Capisco anche In questo momento La reazione di pancia Che ha avuto Fedez Perché insomma Siamo umani E magari è preoccupato Magari insomma C'è tanta pressione Anche a livello mediatico Quindi è capibile Questa reazione Però insomma È pur sempre Una notizia Quella di Chiara Ferragni Soprattutto che è stata Indagata per truffa Aggravata Ovviamente È una notizia Se ne parla E chiaramente Stiamo parlando Di una delle persone Più influenti in Italia Più famose nel mondo Soprattutto Anche perché La conoscono ovunque Non la conoscono Soltanto in Italia E tutta La stampa Internazionale Ovviamente Parliamo di The Guardian Del New York Times Forse Non so Adesso sto forse Dicendo qualche cavolata Ma fate bene attenzione In Europa Sicuramente Tutti hanno parlato Del caso di Chiara Ferragni Ho letto tantissimi articoli Spagnoli Francesi Inglesi Tedeschi Che parlano di tutto Questo Chiaramente è una notizia Chiaramente ci sono delle cose Che sicuramente Dovranno essere Approfondite Dovranno essere Viste ovviamente Dalle persone Competenti E quindi io Mi trovo abbastanza d'accordo Con quello che dice Mirta Merlino Perché comunque Parlare Di un tema di attualità In questo caso Che è sfociato anche A livello Giuridico Ok È ovviamente Una cosa Normalissima Perché Nel mondo Dei media Ci sono tantissime Notizie Come ad esempio Può essere il gossip La cronaca rosa Ci sono poi anche Ovviamente Delle brutte pagine Di cronaca nera E nel mezzo Ci sono Svariati scandali Svariate inchieste Più o meno Importanti Più o meno Discutibili Più o meno Scandalose E fatemelo dire Ovviamente Quella di Chiara Ferragni È una notizia Super notiziabile Soprattutto perché Ci sono Giorno dopo giorno Più e più Dettagli In questa vicenda Quindi Semplicemente Mirta Merlino Come tante altre persone Come i suoi collaboratori Stanno semplicemente Facendo Il loro lavoro Ed io credo Che nel momento in cui Questo lavoro Non va ad intaccare Nessuno E mi sento di dire Che onestamente Sicuramente C'è molta pressione Da parte dei media Se ho Chiara Ferragni E questo non va bene Da un punto di vista Umano Perché ovviamente Sentendo questa pressione Una persona Può sentirsi male E può Comunque Viverla male No Quello però Che secondo me Dovrebbe essere Molto combattuto Soprattutto qua Sui social È il fatto che Moltissime persone Hanno preso di mira Chiara Ferragni E parlo a livello Proprio umano Non parlo a livello Di tutto quello Che sta accadendo Con il Pandoro Gate Sto parlando esattamente Di persone Che comunque Hanno deciso Di scrivere insulti Minacce Eccetera Eccetera Io credo che Le battaglie Tra molte virgolette Vadano fatte In questo caso Solo e soltanto Per ciò che riguarda Dallo scandalo Del Pandoro E che quindi La giustizia Debba essere fatta Appunto Dalle persone competenti Quello che trovo Fuori luogo È sicuramente Questa ondata D'odio Che va anche A discapito Dei familiari Dei figli Eccetera Eccetera Secondo me Questo non è Assolutamente Giusto Anche perché Siamo tutti umani Si può sbagliare Sicuramente Questa non è Una pagina semplice Che Chiara Ferragni Deve affrontare Ma io credo Che sia ancora Peggio Fare Questo genere Di cose È stato imbrattato Il suo negozio Tante altre cose Delle quali vi parlerò In un altro video Insomma Non lo so Non mi trovo d'accordo Con questo genere Di gesti Anche perché Una persona Può aver sbagliato Può non piacerti Ma Arrivare A odiarla Fare stalking Fare tante tante altre cose Anche qua sui social Proprio no Arrivati a questo punto Però adesso Fatemi sapere voi Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Di Mirta Merlino Fedez Di questo scandalo Che insomma C'è stato Di questo dissing Tra i due E insomma Ragazzi Che vi devo dire Fatemi sapere voi Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Il video finisce qui E spero che vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel pollice in su Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E qui sotto Trovate tutti i miei social Dove potete Seguirmi Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark Vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi noi Ci abbiamo provato Ciao Ciao